Carina come non mai, ma qualcuno spezza il cuore. Altri invece la coltivano con facilità e con soddisfazione. Oggi svegliamo insieme i segreti della pilea per sceglierla e coltivarla con successo nelle nostre case. State con me! Io sono Alice e se non ci conosciamo ti do il benvenuto sul nostro canale. Qui parliamo di piante, di come curarle, di come creare intorno a noi un ambiente più bello, più sano e in questa playlist che ho chiamato Plant Focus dedichiamo di volta in volta un approfondimento ad una pianta protagonista nelle nostre case per imparare a curarla e a conoscerla al meglio. Oggi parliamo della pilea peperomioides iniziando dalla provenienza e dal nome. In natura esistono circa 200-400 specie di pilea diverse, alcune sono facili da trovare nei nostri garden e hanno tutte delle foglioline molto colorate e molto decorative. Qui oggi però noi parliamo della più famosa che è la pilea peperomioides che è anche chiamata con buffi nomi come pianta ufo, pancake plant, pianta delle monete proprio per la caratteristica forma circolare delle sue foglie che ispira dei nomi buffi e anche un po' simpatici. Secondo l'enciclopedia delle piante RHS la pilea è originaria della Cina e il suo nome pilea appunto viene dal latino pileus che significa cappello. Effettivamente le sue foglie sarebbero carine anche come copricapo. È considerata una pianta porta fortuna e nel linguaggio delle piante simboleggia l'abbondanza e la prosperità. Ecco perché potrebbe essere davvero un bel regalo da fare a qualcuno a cui si vuole bene. Luce e temperatura. La pilea è una pianta abbastanza esigente in termini di luce, ha bisogno di essere posizionata vicino ad una bella finestra dove riceve diverse ore di luce intensa, evitando però sempre i raggi più diretti delle ore più calde. In inverno noi la coltiviamo con successo anche sotto alle nostre grow light che teniamo accese per circa 10-12 ore, mentre in primavera d'estate le pilea possono essere portate felicemente in esterno, basta che si scelga per loro una posizione riparata dal sole diretto, ma in questo modo possiamo anche osservare una crescita bella accelerata. Non sopporta però le temperature sotto i 10-12 gradi, ecco perché quando arriva l'autunno andrà opportunamente riparata in casa. Acqua e umidità. Tratto le mie pilea proprio come se fossero delle succulente ed effettivamente in parte lo sono perché hanno delle foglie e dei fusticini davvero belli carnosi. Quindi preferisco che la terra si asciughi abbastanza bene tra una annaffiatura e l'altra, ma non lascio mai che diventi proprio secca secca. Infatti le radicine sono sottili e se facciamo seccare troppo la terra rischiamo che si possano rovinare e poi quindi vedere ingiallire alcune foglie, specialmente le più basse. È una pianta che cresce tuttavia incredibilmente bene in idrocultura e dopo averla propagata in acqua può essere lasciata in barattoli con acqua ed inerti oppure in vasi con riserva che contengano substrati come il pon, il ceramis oppure anche dell'argilla espansa di piccola pezzatura. Ho notato che coltivandola in idrocultura le sue foglie sono anche più aperte, più distese, quindi devo dire che questa è davvero la tecnica che noi preferiamo per coltivare la pilea. Non ritengo neppure che sia una pianta particolarmente esigente in termini di umidità ambientale, quindi se avete una casa piuttosto secca è una pianta che non dovrebbe risentirne. Due parole sul rinvaso e sul terriccio. Se coltiviamo la nostra pilea in terra l'importante è scegliere un terriccio che sia soffice e ben drenante, l'ideale è che sia capace di asciugarsi bene e di non trattenere troppo a lungo un'umidità persistente. Magari potremmo a questo proposito aggiungere qualche piccolo inerte proprio per favorire l'ossigenazione delle radici. Quando rinvasiamo le nostre pilea e le rinvasiamo in terra quello che preferisco fare è scegliere sempre un vaso che sia ben dimensionato alla pianta, che non sia mai troppo grande, in questo modo sono sicura che l'umidità della terra venga ben sfruttata dalle radici e che quindi queste possano rimanere veramente sane e felici all'interno del vaso. Problemi e parassiti che possono affliggere le nostre pilea. A me è capitato alcune volte di vederla attaccata dalla cocciniglia, in particolare quella cotonosa, ma mai in una forma troppo grave. Infatti capita che qualche volta si annidi magari tra le foglioline nuove all'apice della pianta. Basta una delicata rimozione manuale magari servendoci di un sottile pennellino per risolvere facilmente il problema. Se poi capita, per maggiore sicurezza possiamo utilizzare anche dell'olio di nino come barriera naturale. Se avete qualche problemino di cocciniglia, ad ogni modo vi suggerisco di guardare magari anche il mio video specifico dedicato alla cocciniglia che vi lascio qui sopra. Alcune volte la pilea mette delle foglie che non sono ben distese, non sono delle monete belle tonde e piatte, ma sono magari un po' cartocciate su se stesse e pare che questo problema sia connesso ad un'esposizione luminosa non proprio perfetta. Quindi se le foglie della tua pilea, della nostra pilea non sono ben distese, quello che potremmo provare a fare è cercare di capire se sta prendendo una luce eccessiva o se invece l'abbiamo relegata ad un angolino un po' troppo dimenticato della nostra casa e aggiustare un pochino il tiro. Con il tempo invece una caratteristica che può assumere la nostra pianta è quella di perdere le foglioline del fusto, quelle più basse. Personalmente è una cosa tipica della pilea che a me piace molto. E un'altra cosa che potremmo osservare è che magari nella pagina inferiore della foglia si possano notare dei piccoli puntini bianchi che non sono nulla di grave, non è un parassita, ma sono dei classici accumuli di sale minerali proprio tipici della pilea. Propagazione. Per chi ama propagare le proprie piante la pilea è una pianta che permette veramente di divertirsi un sacco. Infatti se scorrete tra i miei vecchi video ne trovate anche uno di qualche tempo fa che abbiamo dedicato completamente alla propagazione di questa pianta. E' infatti naturale che dal basso comincino a spuntare delle piccole piantine delle baby plant perché in natura questa pianta è una pianta che è anche piuttosto infestante con un portamento cespuglioso e staccando proprio questi piccoli getti dalla base della pianta madre possiamo ottenere decine e decine di nuove piante in modo estremamente semplice. Io di solito le faccio radicare direttamente in acqua perché adoro vedere le piccole radicine spuntare ma va bene propagarle con successo anche con lo sfagno oppure con il ceramis e scommetto che non avremmo neppure problemi se le mettessimo direttamente anche in un vasetto con della terra. Anzi se avete magari provato a propagarle direttamente in terra fatemelo sapere nei commenti perché sono curiosa di sapere com'è andata. La primavera è sempre il periodo migliore per le propagazioni ma devo ammettere che noi con le pilea proviamo a propagarle anche in tutti i periodi dell'anno quindi anche in inverno e di solito non abbiamo mai grossi problemi magari ci mettono soltanto un pochino di più ma la soddisfazione non manca mai. Le piantine così ottenute quindi con propagazione in acqua in ceramis in sfagno sono adattissime per il passaggio poi in coltivazione con tecnica di idrocultura quindi con substrati inerti ma se preferite passarle poi e coltivarle definitivamente in terra la pilea è una pianta che si adatta abbastanza facilmente al passaggio in terra purché si scelga appunto un vaso non troppo grande ed un terriccio soffice e leggero. Riguardo alla pilea gira una voce che in realtà è una leggenda metropolitana ovvero che sia possibile propagarla anche solo per foglia in realtà questo non è vero alcune volte può capitare che mettendo anche semplicemente una sua foglia in un bicchiere d'acqua questa foglia metta le radici le radici ma se non preleviamo insieme alla foglia anche un pezzettino di fusto è davvero improbabile che possa emettere una gemma o una nuova piantina alla base e quindi diventare poi effettivamente nel lungo periodo effettivamente una nuova pianta. La propagazione per foglia è invece possibile con una cugina della pilea ovvero la peperomia polibotria che tante volte viene confusa per una pilea perché si assomigliano moltissimo. La peperomia effettivamente si può propagare per foglia ma sono due piante differenti e se le osserviamo bene ce ne rendiamo conto infatti il fusto della peperomia e quello della pilea sono proprio diversi e anche la forma della foglia è un po' diversa mentre nella pilea è proprio più rotonda la peperomia invece ha una foglia un po' più cuoriforme. Ultimo capitolo del nostro plant focus meglio saperlo è la pianta giusta per te? Prima di acquistare una pilea ci sono alcune cose che potremmo tenere in considerazione per non fare l'acquisto sbagliato. La prima è una cosa positiva ovvero che la pilea è una delle poche piante domestiche che risulta non essere tossica infatti può andare d'accordo tranquillamente anche con gatti cani un po' curiosi. Una cosa invece che dobbiamo tenere in considerazione è che se amiamo le piante fiorite è meglio lasciar perdere la pilea perché la sua fioritura è davvero deludente. Si tratta praticamente di una spiga con qualche puntino giallo sulla punta. In realtà però ho scoperto recentemente che è possibile osservare un fenomeno davvero interessante ed esplosivo. Infatti pare che il polline si distribuisca tutto intorno alla pianta grazie a delle piccole esplosioni di questi mini fiorellini che è una cosa davvero carina. Infine teniamo in considerazione che la pilea per quanto carina potrebbe non essere una pianta semplice per tutti. Suggerisco di sceglierla soltanto a chi ha in casa una buona posizione luminosa da offrirle o altrimenti potrebbe risultare un pochino capricciosa. Fatemi sapere nei commenti magari se l'avete e dove la coltivate. Questo potrebbe essere d'aiuto magari a chi sta cercando di posizionarla al meglio per vederla crescere poi bella felice e con soddisfazione. Ricordate di supportarci con un like se il video vi è stato utile, se vi è piaciuto ed iscrivervi al canale se invece è la prima volta che passate da queste parti. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo venerdì con un nuovo video sempre sulle piante. Ciao e a presto!